Ti cerco, ti sento accanto a me Nel mio cuore pavido una ferita c'è Come un vortice l'anima distrugge Nei miei ricordi Quante domande che ancora ti farei Quante risposte che io pretenderei E' la voglia di vivere Anche per te che riesca I giorni miei Quante domande che ancora ti farei Quante risposte che io pretenderei E' la voglia di vivere E' la voglia di vivere Caserta vuole vivere il nostro motto Siamo stanchi, siamo stanchi del degrado Siamo stanchi di morire Di vedere gente che muore per tumori In seguito all'inquinamento Siamo stanchi di mangiare prodotti inquinati Vogliamo respirare aria pulita Vogliamo bere acqua non inquinata Non vogliamo più ecoballe Ma soprattutto non vogliamo più balle Ci hanno riempito di balle in questi anni Noi vogliamo vivere Questo è il messaggio che vogliamo portare Sulle strade questa mattina Per quanto io ne sappia I venditi li abbiamo solamente tra i camorristi Questo è un dato di fatto Noi aspettiamo che ci siano i venditi Tra gli industriali che sono venuti a sversare In queste nostre campagne Ci siano venditi tra i politici Che avrebbero dovuto tutelare questo territorio E non l'hanno fatto Tra tutti coloro che per un motivo o per un altro Non hanno lanciato l'allarme Le nostre campagne sono zeppe Piene di rifiuti industriali Chi è che ce li ha portati? Perché stanno là? Che bisogna fare? Caldoro dice che ci vorranno 80 anni Per fare la bonifica Quindi questi ragazzi che stanno qua Non la vedranno E però bisogna cominciare Si comincia, si comincia Bisogna cominciare a mappare i terreni Per sapere quali sono i siti avvelenati E metterla no food Da quelli non avvelenati E stare un po' più sereni Anche nel mangiare un po' di frutti Un po' di verdure E dare più serenità ai contadini Anche alle donne Ma dico Per me è disumano Che una mamma stamattina va a fare la spesa E c'è il dubbio dentro di sé Se sta avvelenando i suoi figlioli O li sta alimentando Questo è un dubbio Ma è insopportabile Guardate Allora Qualcuno ci dice Ma non è tutta la campagna E ci mancherebbe altro che tutta la campagna Proprio perché non è tutta la campagna Ed è stata avvelenata Noi vogliamo sapere quali sono i siti avvelenati E bisogna fare presto Perché poi non venga anche rovinata completamente la falda acquifera Ci sono dei bambini che hanno fatto questo lavoro E ve lo vogliono far vedere Questo lavoro Facciamo vedere questo lavoro Dei bambini Con le cartoline Con le cartoline Con le cartoline delle mamme Che hanno perduto un bambino Di E loro sono fieri di questo Bravi bambini Sono della scuola elementare di Tiano E hanno fatto questo lavoro Rappresenta Tutti i bambini che sono morti per il tumore Grazie a tutti Credo che sia una lezione di civiltà Da parte della città di Casetta E della provincia Cioè noi dobbiamo ascoltare Capire quelle che sono le vere esigenze Della popolazione E parlare un po' di meno di politica Ma soprattutto affrontare i temi Noi come città di Casetta Siamo sicuramente avanti La strada è quella della caratterizzazione Che nell'area Louttaro Stiamo portando avanti E poi il popolo si deve unire tutto Chiedendo al governo nazionale le bonifiche Perché è una vicenda di tipo nazionale E dobbiamo far sì che lo Stato Immagini una legge nazionale È un'emergenza quella delle bonifiche Poi però bisogna lavorare anche sugli impianti Perché è chiaro che il problema delle bonifiche È un vecchio problema Oggi però poi dobbiamo risolvere il problema attuale Che è quello dello smaltimento dei rifiuti Della differenziata Per te che rientri ai giorni miei Continuo il percorso che hai lasciato a me Nelle ombre uno spiraglio di luce c'è Come nel vuoto Come nel vuoto Come nel vuoto Vogliamo sapere i prodotti da dove vengono Vogliamo... L'altra cosa è il discorso della bonifica, questo è un discorso molto serio, certamente forse in alcuni casi tecnicamente è impensabile e impossibile la bonifica, però voglio dire laddove sia possibile la bonifica e ci auguriamo che sia possibile, dobbiamo stare attento che gli avvelenatori non diventino bonificatori, perché il problema è proprio questo, il prefetto ci ha assicurato questa cosa che addirittura Roma, voi sapete che a Roma è una task force nata con quattro ministri ambienti, agricoltura, interno e salute, insieme hanno formato il suo tavolo permanente che dovrà in qualche modo monitorare tutto e risolvere il problema, quindi il caso è arrivato così, si discute degli ambienti nazionali. Quante domande che ancora ti farei? Quante risposte che io pretenderei? Tu è la voglia di vivere anche per te che rientri ai giorni miei? Quante domande che ancora ti farei? Quante risposte che io pretenderei? Tu è la voglia di vivere anche per te che rientri ai giorni miei? Quante risposte che ioube tu lo guardo? Quante risposte che io